E' un'altra cosa che fa, è per il dolore della città. E' per il dolore della città. E' un'altra cosa che fa, è per il dolore della città. Pronto quindi per un eventuale debutto nel campionato con la nuova maglia. Da verificare la presenza tra i convocati del portiere Liz Gomis, che tornerà soltanto domani dagli impegni con il suo Senegal per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. A difendere i pali granate ci sarà Richard Marcone, protagonista di un inizio di campionato davvero strepitoso. E' un vero e proprio punto di forza di questo nuovo Trapani. Al termine dell'allenamento gli abbiamo rivolto qualche domanda. Richard, ci avviciniamo al secondo impegno consecutivo al provinciale. Sabato arriva il Cittadella, che partita ti aspetti? Sicuramente sarà una partita più difficile rispetto a quella col Vicenza. però noi affronteremo come al solito gli avversari con la mentalità della squadra che vuole vincere. E poi quello che verrà ci prenderemo. Domenica scorsa è arrivata una vittoria sofferta contro il Vicenza, però è arrivata con grande cuore. Quante emozioni, quante motivazioni può dare in più questa partita, questa vittoria in vista dei prossimi impegni? Con la partita di domenica abbiamo dimostrato che abbiamo molta fame, come si suol dire. Abbiamo molta voglia di vincere, se qualcuno ancora aveva dei dubbi. Fare gol al novantesimo sicuramente ci ha tirato su il morale in una maniera pazzesca. Poi far gol sotto la curva è stata, penso, soprattutto per Luca, un'emozione indescrivibile. Un inizio di campionato per te è formidabile. Senti davvero di essere uno dei valori aggiunti di questa squadra? Valore aggiunto mi sembra un po' troppo presto per dirlo. Sono solo due partite. Diciamo che per ora ho fatto bene, mi godo il momento e cercherò di continuare a dare il massimo per tutto il resto del campionato. Su cosa stai lavorando per migliorare e per essere un portiere completo? Io sicuramente ho molto da migliorare, essendo comunque un ragazzo di 21 anni. Ho, ripeto, molto da migliorare in ogni campo, in ogni situazione tecnica e anche tattica. Però ho voglia di mettermi in gioco e di mettermi al lavoro. Quindi col mister lavoreremo appunto per migliorare. In questo ti sta aiutando molto, mister Brambilla, come ti stai trovando con lui in questo secondo anno e con i nuovi compagni di squadra? Diciamo, com'è lavorare anche divertendosi? No, io sì, col mister è il secondo anno che ci lavoro. Mi sono trovato bene sin dall'anno scorso. E sono molto contento di lavorare di nuovo con lui quest'anno perché, ripeto, lavorandoci già da un anno so cosa vuole, so il suo metodo di lavoro e quindi per me è anche più facile. Poi il rapporto con l'Is, Riccardo e l'Oliva è bello. Ci divertiamo durante l'allenamento e in tutto ciò diamo sempre di più. Quindi è un lavorare divertendoci. Proprio Brambilla, lo scorso in un'intervista ti definì introverso e misterioso. Com'è Richard Marcone fuori dal rettangolo di gioco? Io sono un ragazzo normale. Il mister mi ha lasciato anche a me un po' a bocca aperta con questi due aggetti. Forse per alcuni versi sì, però anzi, penso di essere un ragazzo molto tendente a socializzare con tutti. Non so come mi possa definire. Anzi, penso più estroverso che introverso. Hai sempre giocato in porta, anche sin da bambino, oppure magari avevi un altro ruolo? Come è nata la passione per questo ruolo? Io inizialmente ero un attaccante. Poi piaceva molto il gioco in scivolata, rovesciate, eccetera, eccetera. Per cui mio padre, ex portiere, mi disse prova a metterti i guanti e a giocare in porta. Provai e da lì non mi tolsi più i guanti. Ti sei innamorato di questa città? Come ami trascorrere il tempo libero qui? Sì, io amo molto questa città. Mi piace Trapani. Il mio tempo libero lo passo con il mio cane, la mia ragazza, guardando molta tv. Sono uno a cui piace molto stare sul divano e stare a casa, soprattutto d'inverno. Sono 1081 e biglietti staccati fino adesso per la partita di dopodomani con Cittadella. Vi ricordiamo che c'è tempo fino a sabato, prima dell'inizio della gara, per acquistare i tagliandi presso la biglietteria del Trapani Calcio, presso tutti gli altri punti vendita autorizzati. L'arbitro della partita di sabato contro i veneti della formazione di mister Foscarini sarà il signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Nessun precedente per lui né col Trapani né col Cittadella. Gli assistenti di gara saranno invece Bellutti di Trento e Villa di Rimini. Chiudiamo con le notizie riguardanti il nostro settore giovanile. La primavera di Gigi Garzia sabato alle ore 15 affronterà il Bologna in trasferta, mentre gli allievi di Giacomo Filippi se la vedranno con i parietà della Sampdoria domenica alle 15 presso il centro sportivo Roberto Sorrentino. Debutto stagionale invece per i giovanissimi professionisti di mister Peppe Culcasi, che domenica alle ore 15 saranno di scena a Messina. Dal provinciale è tutto, vi ricordiamo l'appuntamento con la partita di dopodomani contro il Cittadella qui al provinciale. invece l'appuntamento per lo spettacolo Siamo Noi News e per la prossima settimana.